La mafia è a casa nostra, parliamone. Sabato 20 novembre alle 15.30 sotto il porticato di Piazza Cavura, Rimini la prima di una serie di elezioni di antimafia in piazza. A svolgerla il giornalista Giovanni Tiziana, esperto in materia di criminalità organizzate da autori di diverse inchieste sulla presenza di infiltrazioni mafiosi in Emilia-Romagna. L'evento è organizzato dal gruppo antimafia Pio La Torre, un gruppo di recente costituzione composto da ragazzi della provincia di Rimini, decisi a riunirsi per promuovere il tema dell'antimafia sociale nella realtà riminese. I giovani in questione sono volontari che nel periodo estivo si recono alcuni di loro da diversi anni in Sicilia per coltivare i terreni confiscati alla mafia, partecipando al progetto Liberarci dalle Spine. GAP, questo gruppo formato da questi giovani riminesi, decisi appunto a riunirsi per informare sulle infiltrazioni mafiose qui a Rimini, perché la mafia non è solo al sud. Certo, il nostro gruppo nasce dai campi di lavoro sui terreni confiscati alle mafia e presso la cooperativa Lavoro Non Solo di Corleone e da lì, oltre a voler portare il messaggio che al sud comunque c'è un movimento antimafia, ci sono persone che si danno da fare operando sui terreni confiscati e cercando di contrastare questo fenomeno giorno per giorno, abbiamo questo spunto in più, considerando poi i vari articoli usciti di diversi giornalisti e comunque le relazioni delle direzioni antimafia nazionali e distrettuali che testimoniano come la mafia in realtà anche nelle economie del nord ci infiltra e utilizza il denaro che proviene dal traffico degli stupefacenti piuttosto che da altre attività illecite per finanziare attività economiche al nord e quindi per generare altri introiti per la criminalità organizzata. Quindi in merito a questo, quali sono le prossime iniziative che state organizzando? Il gruppo antimafia Piolatore sta organizzando diverse iniziative, a partire da domani pomeriggio alle 15.30 ci sarà una lezione in piazza con Giovanni Tizian, giornalista che ha scritto su un arco mafie delle infiltrazioni nell'economia emiliano-romagnola, dopodiché avremo settimana prossima un incontro con i soci della cooperativa il venerdì a Misano al quartiere di Villaggio Argentina e dopodiché avremo il culmine di tutto, sarà la cena della legalità di sabato 27 novembre in cui interverranno i soci della cooperativa, noi volontari del progetto Liberarci dalle Spine e il giornalista Maurizio Torrealta di Rai News 24 che ha scritto il libro Mafia alla trattativa e quindi ci sarà comunque anche spazio per quello che riguarda la trattativa Stato-Mafia, oltre al discorso prettamente legato alla gestione dei terreni confiscati.